Bentornati, oggi parliamo di canarini. Stiamo entrando nella primavera e quindi nel periodo della riproduzione, vogliamo fare una coppia e vogliamo essere certi di avere un maschio e una femmina, quindi guardate tutto questo video fino alla fine e così sarete in grado di riconoscere un canarino maschio da un canarino femmina. La prima cosa che bisogna osservare è il canto, infatti il canarino maschio canta per attirare la femmina, è un canto di richiamo e anche un canto di corteggiamento. Il canarino canta in maniera melodiosa, in maniera intensa, in maniera proprio forte, adesso vi farò vedere un pochino come canta il canarino maschio. Mentre la femmina non emette proprio un canto vero e proprio, ma dei piccoli versetti. bisogna anche esaminare attentamente la parte della zona genitale perché ci sono delle differenze sostanziali. Questo è un maschio soffiando, vedete che nella parte della zona genitale c'è come una protuberanza dopo la pancia e quello indica che è un maschio perché nella fase della riproduzione appoggiandosi diciamo sulla femmina verranno secondate le uova. Questa è una femmina, vedete che soffiando si può notare che nella parte genitale non c'è nessuna protuberanza ma è piatto, anzi è anche un po' gonfia, questo vuol dire che è pronta per la riproduzione. Ci sono delle specie di canarino come il mosaico rosso o il mosaico giallo dove il maschio presenta una mascherina mentre la femmina non la presenta e quindi si può tranquillamente distinguere il sesso solo visivamente guardando appunto la testa del canarino. Bene, adesso abbiamo visto come riconoscere il maschio dalla femmina del canarino, quindi se il video vi è piaciuto vi chiedo soltanto un like e se avete qualche domanda scrivetemela pure nei commenti qui sotto. Un saluto a tutti, a presto!